Vino Cutaia, Massimiliano Musso, Stellati, Mischleng dell'Equipe Eccellenza Italiana e Federazione Italiana Pasticceria, si presentano un piatto salato e dalle loro voci diteci cosa andrete a realizzare? Ecco, è una nuvola di caprese che è stato premiato con la guida dell'Espresso come piatto dell'anno, in realtà è un'illusione perché mentre noi conosciamo la mozzarella di bufala che è dura e consistente, noi l'abbiamo realizzata invece in maniera leggera, per cui prende il nome dalla nuvola di caprese. Ecco, viene realizzata attraverso, l'idea nasce dalla pellicina del latte che si ricrea ogni 15-20 minuti, per cui ci ha fatto ricordare la prima sfoglia della mozzarella, allora l'idea è stata quella di cambiare, proprio di giocare attraverso questa estetica. Ecco Roberto. Io vorrei anche due parole, comunque vediamo adesso che andrai a realizzare il piatto, due parole da Massimiliano Musso, anche lui un grandissimo chef, a lui piace molto la pasticceria e il dessert al piatto. Dove l'uomo osa? Allora, sì, diciamo che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto uno studio su quello che è il discorso del dessert al piatto, che non sia proprio sempre il solito classico dessert al piatto tradizionale, ma abbiamo inserito, iniziato a fare dei dessert al piatto un pochino più spinti, un pochino più osati. Oggi non li realizzerò, ma lunedì realizzerò dei dessert al piatto, di cui uno è un'anticipazione, che è una bavarese alla birra, dedicata alla birra Moretti, quella ambrata, e un dessert invece alla zucca, quindi è la ripresa comunque dell'elemento vegetale all'interno di un discorso di dessert al piatto. Perché? Per questo perché? Perché innanzitutto per cercare di dare una massima valorizzazione a quello che è la materia prima e secondo per far sì che ci sia una stagionalità e una reperibilità dei prodotti a chilometraggio zero, infatti noi nel nostro ristorante utilizziamo materia prima a chilometraggio zero.